Musica Lo so quello che è stato pensato Oh mio dio Carlo è tornato a fare video di Battlefield Ebbene si ragazzi Siamo di nuovo qui Quindi salve a tutti ragazzi Ben ritrovati su canale di Battlefield Games Io sono Carlo Oh mi mancavo a fare questa Questa intro Dopo mesi forse che Che non facevo più un gameplay In generale Non solo di Battlefield Ma in generale Siamo tornati su Battlefield In particolare su Battlefield Hardline Ce la posso fare Non posso iniziare subito a impappinarmi con le parole Siamo nell'open beta Quella che va dal 3 febbraio all'8 Mi sembra Una roba del genere Comunque è uscita oggi Ovvero martedì 3 È il 3 oggi Sì Penso di sì E finisce domenica Che penso sia l'8 Avevo pensato di fare una specie Una piccolissima serie Dove vi volevo presentare Le 4 classi che ci sono Su Battlefield Hardline Ovvero l'operatore Il meccanico L'assassino Il professionista Oggi parleremo dell'operatore Che praticamente Ragazzi non è altro Che la classe dell'assalto Che c'era in Battlefield 4 Ovvero il medico Possiamo così chiamarlo Possiamo definirlo così Infatti come vedete C'è un fucile d'assalto classico Una pistola Kit medico Un quarto gadget Che può essere Come vedete Defebbrillatore O comunque altre cose Tipo Che figata C'è la balestra Il rampino Queste cose non le sapevo La maschera antigase Non ho la minima idea Di cosa possa servire Una maschera antigase Su Battlefield Lo scopriremo Più avanti Lo scopriremo Comunque questa qui Più o meno ragazzi La classe del medico Possiamo così dire Poi ovviamente C'è la solita granata Una cosa che ho notato subito ragazzi In Battlefield Arline È che gli oggetti Diciamo Gli accessori Gli upgrade Per le vostre armi Non si devono sbloccare Cioè Si devono sbloccare Però Una volta che li avete sbloccati Voi li dovete acquistare Infatti come potete vedere Qui in basso a destra Ci sono i miei soldi Quelli che praticamente Voi li guadagnate Piano piano Uccidendo gli nemici Conquistando gli obiettivi E giocando alla fine ragazzi E guadagnate i soldi Che potete spendere Per acquistare 9 armi Accessori Oppure comunque Tutti quei gadget Che vi possono servire Durante le partite Perché ho detto Che comunque le dovete sbloccare Le cose Perché ad esempio Come vedete Io ho la mia arma L'R-O-9-3-3 Che diciamo è l'area L'arma La prima arma Che ti danno Su Battlefield Arline O almeno la beta E come potete vedere Posso personalizzarla Nei mirini Io ce li ho tutti sbloccati Perché Per sbloccare i mirini Dovevi fare 30 kill Una volta che tu hai raggiunto Le 30 kill Con quell'arma Tu hai a disposizione Tutti i mirini Di quell'arma Però Ripeto Dovete acquistarli Ad esempio Ho acquistato il Cobra Perché il predefinito Era questo qua Il Micro T1 RDS Che è tipo Uno per Due per Una roba del genere Che non mi piaceva Allora ho preso un Cobra Che costava tipo 2.900 dollari In questo caso Vi faccio un altro esempio Ecco Questo esempio qua Nelle Gli accessori per la canna Come vedete Io ce li ho tutti sbloccati Perché come potete vedere Per sbloccare Questo Questo accessorio Devo fare 70 uccisioni Lì in basso a sinistra Come potete vedere Una volta che ho raggiunto Le 70 uccisioni Posso acquistare Uno o più Di tutti questi accessori E così via ragazzi Avete capito L'impugnatura Deve arrivare a 90 Non sto più A A diluarmi In questo Quindi ragazzi Iniziamo subito a giocare Siamo su Dimmi che c'è scritto Si Rapina Che è una nuova modalità Che mi piace veramente tantissimo Nella mappa banca Come potete vedere È una mappa minuscola Almeno sulla beta È veramente piccolissima Quella mappa La grafica Mi sembra praticamente Quasi la stessa Di Battlefield 4 Quindi direi La solita grafica Una della madena Sono già riusciti A fare una Questa unico Siamo partiti subitissimo Bene Allora Questa modalità ragazzi Mi piace veramente tanto Perché come sapete In Battlefield Darlene Ci sono Diciamo che le due fazioni Sono i poliziotti E i ladri In Battlefield 4 Erano i russi E i cinesi Adesso sono I russi e i cinesi C'è quello Vorrei aver detto Una struzzata Luscinetta Comunque In Battlefield Darlene Ce la posso fare Ci sono I ladri E i poliziotti La modalità Rapina Secondo me È la modalità Diciamo che Più raffigura Questa Diciamo Questa Queste due fazioni Perché ovviamente Come potete Intuire Diciamo che Ragazzi I ladri Hanno l'obiettivo Di andare a rubare Una specie di pacco Di un oggetto Che poi devono portare In un determinato Punto In un determinato Posto E diciamo così Una volta che L'hanno raggiunta Hanno vinto la partita I poliziotti Ovviamente Devono cercare Di evitare Tutto questo Perché Qui siamo All'interno Di una banca Diciamo che L'obiettivo È rubare Penso Dei soldi Perché c'è Una cassaforte Mega gigantesca Galattica Vedete Infatti Adesso hanno preso Devo difendere Un bottino La cassaforte Mega galattica E i ladri Ovviamente Devono andare A rubarla Qua c'è uno Aspettate Non so chi mi ha ucciso Perché non ho l'audio È questo il problema Voi ce l'avete l'audio Io non so però Chi mi ha ucciso Da dove E perché mi ha ucciso Vabbè Va bene così Comunque ragazzi La classe operatore Chiamiamola medico Perché chiamarla operatore Mi fa veramente cagare Chiamiamo Mettiamoci in un team Magari con della gente Tipo qua Unisciti alla squadra Non ci sono spawn Che vuoi fare Non ci sono spawn Vuoi farmi tutta la mappa a piedi Diciamo che la classe del medico O operatore Chiamatela un po' Come cavolo vi pare È quella che preferisco Comunque perché la classe Secondo me è più versatile E soprattutto perché C'è il fucile d'assalto Che è quello che preferisco Sinceramente Poi più avanti Comunque vedremo anche Le altre classi Dove le parleremo E vi dirò Anche i miei pareri Sulle altre Però secondo me Questa qua è la classe Diciamo un po' più forte Nel gioco Perché comunque Avete la possibilità Di curarvi Di curare i vostri compagni Non avete le munizioni Ecco Come potete vedere Ragazzi Questa è la mega Cassaforte Guardate Guardate L'hanno già Ben derubata E fine Mi sa che stanno già Fugata Anche Qui c'è Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Ah no Li tiro la manganellata Fanno un po' Un po' Un po' Non è sempre giusto Abbiamo già Anche tirato Un bel attacco A corpo a corpo Un po' Un nemico Non fare male Ok ragazzi E questo Benissimo Abbiamo fatto l'ombra Mezza strage La partita Direi che sia finita Questo video Voleva essere Un video molto Fast Molto veloce Per fare vedere La classe dell'assalto Che alla fine Bene o male È sempre la solita La stessa solfa Che c'era Anche in Battlefield 4 No ragazzi Bene o male La classe è sempre quella La mappa Più o meno L'avete vista È una mappa Veramente piccola Stile code Diciamo E secondo me È veramente Una cosa figa Questa cosa qua Che non ci sono più Le mappe mega galattiche Di Battlefield 4 Dove magari Per trovare un nemico Ci mettevi Tre giorni Che poi ragazzi Ci saranno anche quelle Comunque c'è una mappa La mappa deserto Qua anche C'è già nella beta È veramente grande Anche quella comunque E avete la possibilità Anche di giocare Quel tipo di mappe lì Però sinceramente Io sono più per una Per le mappe Più piccole Diciamo Quindi ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Presto arriverà Gli altri video Il video Delle altre classi Quindi credo che Passeremo al prossimo video Al meccanico Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Per supportarci al 100% E vi invito A lasciarmi un commento Qua sotto Scrivendomi Cosa ne pensate Di questo Battlefield Darlene Con questo vi saluto ragazzi Ciao